Ok, di nuovo buongiorno, oggi in queste tre ore affrontiamo due argomenti, uno più articolato che è la programmazione asincrona e vedremo i vari modi in cui si può fare programmazione asincrona in javascript perché ci sono modi diversi che sono cambiati nel tempo e sono intercambiabili e usabili uno o l'altro in alcuni casi e il secondo argomento meno articolato ma che ci serve anche come esempio per la programmazione asincrona è invece l'interazione col database. Per cui su GitHub nella cartella della settimana 3 c'è già un database SQLite di esempio che è contenuto dentro relativo allo stesso esercizio di domande e risposte che abbiamo fatto l'altra volta semplicemente i dati invece di essere in un oggetto javascript sono nel database e poi noi oggi andremo a leggerli, inserirli, modificarli e quant'altro. E nella stessa cartella c'è anche un esercizio su questo. Quindi questi due macro argomenti, uno un pochino più complesso, l'altro un po' più semplice ma partiamo dalla programmazione asincrona. Beh innanzitutto provate a darmi voi una definizione di asincrono. Cos'è in questo contesto, nel contesto della programmazione, di un linguaggio qualunque un comportamento asincrono? Come ottenere il silenzio in 5 minuti? Cos'è un esempio di asincronicità? In un qualunque linguaggio, non importa, o anche senza un linguaggio di programmazione, in generale. Per esempio un codice che viene richiamato dopo un evento rispetto all'esterno, cioè non è un previcino di un evento. Esatto, per esempio c'è un programma che fa cose scritte in maniera sequenziale, ovviamente, perché voi li scrivete in maniera sequenziale, ma porzioni di quel codice vengono chiamate non nello stesso maniera sequenziale, ma a un certo punto qualcosa capita per cui vengono chiamate. Ad esempio, un evento di pressione di un tasto sulla tastiera, ovviamente voi non è che potete, se voi scrivete un programma che fa cose e poi a un certo punto, se voi premete un tasto deve interrompersi, se è fatto in maniera sincrona questo fa cose non succederebbe, perché starebbe tutto il tempo ad aspettare che il tasto venisse premuto. Ma dato che fa delle operazioni e deve smettere di farle nel momento in cui il tasto viene premuto, queste due operazioni vanno in parallelo, sono asincrone. Ci sono delle operazioni che funzionano e a un certo punto qualcuno prema un tasto e il programma deve accorgersi dell'evento pressione tasto e quindi deve interrompere, per esempio, le altre operazioni. Se noi lo facessimo in modalità sincrona, come dicevo prima, il programma starebbe tutto il tempo ad aspettare un input da tastiera e non farebbe nient'altro, perché sarebbe bloccato in un while, finché non trovo un input, aspetta. Quindi questo è un concetto di asincronicità. Un altro elemento asincrono è quello, per esempio, nelle slide. Un timeout. Fai queste operazioni dopo un tot di tempo, ma nel frattempo fai altre cose. Quindi questo concetto di ma nel frattempo è quello che ci dà l'asincronicità in questo caso. L'altro oggetto tipico dell'asincronicità negli altri linguaggi di programmazione, qual è? L'abbiamo detto credo anche l'altra volta. I? Inizia con la T? Ni? Non i timer, ma i? Sempre con la T inizia? I thread. E i timer tipicamente usano thread in altri linguaggi di programmazione. Perché dedichiamo tre ore solo a sincronicità? Perché JavaScript ha una caratteristica che è, by design, sincrono. Cioè, esegue e vive all'interno di un singolo thread. E quindi non può, codice JavaScript, creare un thread parallelo. A differenza di quello che fanno altri linguaggi di programmazione. Quindi non esiste il concetto, non esiste l'oggetto thread come lo lancereste in un altro linguaggio di programmazione, che poi si fa le sue attività e a un certo punto può o non può riunirsi al thread principale. Qui questo concetto esplicito di thread non c'è, perché JavaScript è inerentemente sincrono. Quindi esegue le operazioni una alla volta. Però, JavaScript permette, ha un comportamento, può avere un comportamento a sincrono. E questo lo fa con un trucchettino, diciamo, che penso vedremo a far breve. In tutto questo, perché ne stiamo parlando subito dopo le callback, perché le callback sono uno dei modi principali di scrivere codice JavaScript a sincrono. Quindi, JavaScript è sincrono, ma permette di scrivere codice che si comporta in maniera asincrona. E, di nuovo, un esempio di codice asincrono è questo, riportato qui in slide, con setMout. Cosa fa setMout? SetMout prende obbligatoriamente due parametri, una callback e un tempo in millisecondi, e il suo compito è eseguire quella callback dopo che quel tempo è passato. Quindi, quando si esegue questa istruzione, qui si crea la callback, la funzione, non viene eseguita, a quel punto viene invocato setMout, e setMout aspetta, fa aspettare al programma in parallelo due secondi, e dopo due secondi chiama la callback, che in questo caso si chiama delete after Temout. Ma in quei due secondi il programma JavaScript continua a funzionare, a fare le sue attività, non rimane bloccato per due secondi. Allora, questa asincronicità è possibile... Fatemi vedere solo una cosa, che non è qui ovviamente. Questa asincronicità è possibile grazie a due elementi. Uno è l'execution environment, quindi node o JavaScript nel browser, e l'altro è il concetto di event loop, che vedremo settimana prossima, quando parleremo di JavaScript nel browser. Ma qual è il concetto brevemente? Il concetto brevemente è che JavaScript di nuovo è sincrono, quindi ha un meccanismo che si chiama event loop, un loop di eventi, quindi dedica una porzione, diciamo, del suo funzionamento a gestire gli elementi asincroni, e ogni tanto, in una specie di polling, controlla se uno di questi elementi, che sono asincroni, che devono avvenire dopo un totto di tempo, sono da eseguire. E quando lo sono da eseguire, lo rimettono in coda delle istruzioni per la riesecuzione. Quindi, JavaScript di nuovo esegue in maniera sincrona, sequenziale, quando trova qualcosa come questo setTimeout, lo mette da parte, con un'etichetta, diciamo, deve essere eseguito fra due secondi, e ogni tanto controlla se sono passati due secondi. E nel frattempo continua a eseguire il codice. Quando sono passati due secondi, riprende questo oggetto, setTimeout, questa callback, deleteAfterTimeout, da dove l'aveva messa, e la rimette nella coda dell'esecuzione. Questo, cosa vuol dire, da questa breve descrizione, per esempio, che, opzione 1, sicuramente il Timeout verrà eseguito precisamente dopo, allo scadere dei due secondi, oppure che questo Timeout verrà eseguito circa dopo due secondi. circa. Perché, ovviamente, controlla ogni tanto, e quindi dopo due secondi lo rimette in coda dell'esecuzione, ma se in coda dell'esecuzione ci sono tante altre istruzioni, istruzioni magari lente, eccetera, questi due secondi saranno più di due secondi. Questo è intrinseco con tutte le modalità sincrone di JavaScript. quindi il Timeout si esegue dopo due secondi, nel senso che viene rimesso in coda di esecuzione dopo due secondi. E se non c'è nient'altro, viene eseguito subito, due secondi. Se c'è un'operazione che ci mette 100 millisecondi, verrà eseguita, prima di lui, verrà eseguito in due secondi e 100 millisecondi dopo. Perché ci sono operazioni lente, da 100 millisecondi, da 200, prima della sua esecuzione vera e propria. Vedremo, come dicevo, l'event loop settimana prossima perché con un disegno, con un grafico, che aiuta a capirlo un po' meglio, ma da un'altra prospettiva è così. E lo vedremo settimana prossima perché parleremo di JavaScript nel browser e nel browser ci sono molti più elementi asincroni che possono capitare all'interno di un sito web rispetto a Node. Quindi è più facile vederlo lì. Set them out è una funzionalità del linguaggio. Non è una funzionalità specifica di Node. E le tecniche asincrone ovviamente sono molto molto utili soprattutto per lo sviluppo web, come vi dicevo. di nuovo, se un'applicazione web ha una porzione di codice lunga, lenta e blocca la pagina web, il browser può apparire congelato, può apparire bloccato. Questo ovviamente è un comportamento che nel creare un'applicazione web non si vuole ottenere, dare l'impressione che tutto sia bloccato. Per cui uno preme refresh, ma non ottiene niente perché poi ricomincia il codice lento e rimane tutto bloccato. Allora, la sincronicità ci permette di non dare questa impressione del fatto che tutto rimanga bloccato. Per cui io posso, e voi potete nella vostra esperienza normale, andare in un sito web e cliccare dove volete in ogni momento e ci sono opportuni, se siete fatto bene, meccanismi che o fanno eseguire la cosa in tempi ragionevoli oppure vi dicono sto caricando e poi la cosa si esegue in tempi ragionevoli. Ma è tutto bloccato e tipicamente si insegna che qualcosa non va, non è qualcosa fatto tipicamente apposta. Ecco, quali sono queste operazioni che possono essere lenti che possono dare l'impressione che il tutto rimanga bloccato, per esempio. In node o nel browser, quindi sul computer o nel browser. Le richieste HTTP, quindi io client faccio una richiesta al server e il server ci metterà il suo tempo a rispondermi, può essere un tempo breve, può essere un tempo lungo, non possiamo saperlo perché dipende da che cosa c'è, la rete che c'è in mezzo o la congestione del traffico che c'è in mezzo, il carico su server, il tipo di richiesta, tante cose. Un'altra? Le query al database, il database può metterci il suo tempo a rispondere, se noi vogliamo una query complicata su un milione di dati ci metterà un po' di tempo. Qualcos'altro? la chiamata la chiamata funzione che ci mette tanto tempo un po' generica, però può essere, certo. Qui c'è un altro esempio, accedere a uno stream video da una webcam. Ovviamente quelli sono, no? Se avete una webcam in 4K o anche solo in 2K, ovviamente, o anche solo in HD, quelli sono un sacco di frame da agire, processare e mostrare. E magari filtrare, manipolare, scalare. E tutta quella operazione che viene fatta al momento. Quindi, tutte queste sono operazioni che noi poi, a parte alcune, affronteremo, la lettura da database, la richiesta HTTP, non lo stream video, però, sono tutti esempi di applicazioni, di cose che noi a un certo punto, durante il corso faremo, e per cui ci servono i metodi asincroni. Per cui JavaScript, pur funzionando in questa modalità sincrona e permettendo la sincronicità con questa idea, con questo concetto dell'event loop, ha una buona parte di primitive che sono non bloccanti, quindi che sono asincrone e fanno uso di callback per funzionare in maniera corretta. E le callback asincrone sono il modo base di creare codice asincrono e sono l'equivalente delle callback sincrone che abbiamo visto l'altra volta, per esempio, col sort. Quindi, c'è una funzione che a un certo punto, come set them out, come sort, vuole una callback per specializzare il suo comportamento. solo che quella callback, quella funzione, non sarà passata, non sarà eseguita in maniera sincrona immediatamente e quindi bloccante, e per bloccante intendiamo che la riga dopo di codice non viene eseguita fin tanto che la riga prima non ha completato la sua esecuzione, ma verranno eseguiti in maniera non bloccante. Quindi la riga dopo di codice verrà eseguita immediatamente, mentre la callback asincrona fa le sue attività, le sue operazioni in parallelo. Qui c'è un esempio con la readline. La readline è un qualcosa che esiste solo in Node e non esiste nel browser, perché serve per leggere da tastiera, serve da leggere da terminale, da console, e quindi in un browser voi non leggete da tastiera da console, avrete un campo di test in una pagina web da leggere, non dei comandi inseriti da tastiere in un prompt come su Node. Quindi, mentre per esempio la set amount è qualcosa che esiste da entrambe le parti perché è proprietà del linguaggio, come vi dicevo all'inizio del corso, esistono funzioni che sono proprie di un execution environment, e la readline è una di queste e la scrittura su file è una di queste perché nel browser queste cose non capitano o capitano in maniera diversa con diverse funzioni. quindi la readline per esempio in Node è asincrona perché ovviamente voi non volete star lì aspettare le pressioni del tasto, volete processare le informazioni. E le callback asincrone vedete qui ci sono un po' di esempi di tipi di occasioni in cui vengono usate. Gestire le azioni dell'utente soprattutto in un browser, i click ho premuto quel bottone non importa se il browser sta facendo altro ho premuto quel bottone quindi devo eseguire quell'azione che di nuovo è esperienza comune e gestire operazioni di input output come leggere un documento scrivere un documento accettare input alla tastiera eccetera gestire intervalli di tempo come la set them out e anche per esempio interfacciarsi col database perché come diciamo prima quella può essere un'operazione il cui tempo di esecuzione non è noto a priori e potrebbe anche essere lungo e quindi è inutile bloccare un software perché stiamo aspettando un secondo che il database ci risponda o mezzo secondo che il database ci risponda dobbiamo andare avanti e poi gestire la risposta nel momento in cui arriva di nuovo time out è un esempio di funzione set interval è un cugino di set time out con la differenza che mentre set time out chiama la funzione dopo un certo tempo set i e basta una volta sola quindi passati prendiamo questo esempio passati un secondo il set time out fa un console log di hey una volta dopo un secondo stampa hey il set interval chiamerebbe questa funzione ogni volta dopo un intervallo di tempo quindi set interval chiamerebbe quella funzione ogni secondo quindi non solo una volta ma ogni secondo periodicamente due cose da tenere una cosa da tenere a mente sul set time out è che il time out non può essere lungo a piacere non potete dire vorrei un time out un qualcosa che viene eseguito dopo due mesi perché il valore di time out deve essere minore di questo numero 2 alla 31 meno 1 che sono circa 24 giorni che se ci pensate in un'ottica di un'applicazione web che gira dentro un browser è tutto sommato ragionevole uno non dovrebbe tenere un tab di un browser senza che venga ricaricato per più di 24 giorni a un certo punto quella pagina verrà ricaricata qualcosa succederà ovviamente se pensiamo a un software su node questo può essere limitante ma ci sono altri metodi per fare queste operazioni se uno volesse schedulare un evento due mesi nel futuro ora se noi immaginassimo di eseguire questa qual è l'esecuzione che vedremmo stampata a schermo qui ci sono due console log una dentro il timeout che è questo hey e l'altro è quel hi in che ordine vengono stampate e poi hi e poi hey perché come funziona di nuovo viene creato questo set timeout viene memorizzato che dopo un secondo devo eseguire il console log si esegue console log hi e poi a un certo punto dopo circa un secondo si esegue console log a quindi anche se qui ovviamente appaiono in un ordine poi l'esecuzione in questo caso è nell'ordine inverso ok set timeout poi ha la possibilità nel caso in cui la callback accetti dei parametri di indicare i parametri dopo il secondo argomento della set timeout quindi il primo che è obbligatorio è la callback il secondo che è obbligatorio è il tempo il terzo il quarto il quinto eccetera sono gli eventuali parametri della callback se la callback non ha parametri non è necessario indicare niente clear interval serve poi a stoppare l'invocazione periodica di set interval quindi set interval come vi dicevo serve a eseguire una stessa cosa periodicamente in questo caso ogni due secondi clear interval ferma a quel punto l'esecuzione di questa set interval dopo il completamento dell'ultimo dell'ultima operazione ovviamente sì quanti ne volete in parallelo non ho capito ah crea interval esatto crea l'interval blocca l'id del set interval tu dovresti fare se tu volessi cinque intervalli diversi che fanno non importa cosa dovessi scrivere cinque volte set interval se volessi bloccarne solo uno di quelli o due di quelli sì niente una nota sulla gestione degli errori nelle callback visto che le useremo questo vale per le callback sincrone ma ovviamente anche per quella sincrone non c'è un modo ufficiale per gestire gli errori nelle callback ci sono solo best practice e la best practice è che quando si vuole gestire un errore nella callback il primo parametro contiene l'errore se c'è e il secondo parametro contiene invece il risultato senza errore se c'è questo è una best practice nel senso che molte callback sono strutturate in questo modo il primo parametro è un contenitore per l'errore e il secondo parametro è un contenitore per i risultati per i dati non la vieta di invertirli non la vieta di fare altre cose molti metodi in node per esempio seguono questa strategia questa best practice non tutti però questo è quello che tipicamente capita errore come primo argomento e il risultato dell'operazione come secondo argomento di una callback ok domande fin qui allora muoviamoci sul database perché introduciamo il database adesso di nuovo per due motivi uno è quello che avevo detto prima perché è un esempio di chiamate asincrone invece di fare tante set time out set interval possiamo fare qualcosa di un pochino più consistente e secondo perché essendo questo un corso di web a un certo punto avremo bisogno di un server che avrà bisogno di un database e quindi introducendolo adesso come esempio ci tornerà comodo quando affronteremo la parte relativa al server per la persistenza dei dati allora node supporta ovviamente molteplici database molteplici dbms attraverso estensioni attraverso librerie che si possono installare e lì c'è un elenco più o meno lungo e noi in questo corso useremo SQLite e qualcuno di voi qualcuno di voi per forza l'ha già usato chi non ha mai visto usato SQLite ok SQLite è un database è un database SQL tutti sapete cos'è SQL sì sì è un database SQL quindi si comporta come gli altri database SQL ha una caratteristica rispetto agli altri database SQL che è un database su file quindi che database avete usato in altri corsi MySQL Server o MariaDB o Oracle qualcosa ecco tutti quelli sono processi sono software da installare sul computer che poi lanciano un processo e lanciano un server HTTP a cui voi dovete un server ragazzi un server a cui dovete poi collegarvi attraverso un indirizzo tipicamente localhost qualcosa eccetera e il database è sul computer se voi volete trasferirlo su un altro server cosa dovete fare in quel caso? fare un dump di tutto il database compresa come si creano le tabelle eccetera e andare su un altro computer che importerà il dump e creerà tutto da zero dopo aver installato MySQL Server MariaDB qualunque cosa SQLite evita tutto questo perché il database è dentro un file quindi il file che io vi ho dato su GitHub è il database quindi se io voglio condividere un database con voi o voi volete condividere un database con me prendete quel file e lo date a qualcun altro ed è finita non c'è niente da installare non c'è niente da esportare non c'è niente da importare è proprio tutto il database dentro il file questo ovviamente vantaggi e svantaggi il vantaggio è che ovviamente è molto pratico è molto comodo perché dentro un'applicazione ci si può tenere un database senza bisogno di avere dipendenze particolari processi permessi e quant'altro e per esempio SQLite viene utilizzato anche in alcuni casi all'interno delle applicazioni mobile perché è un piccolo database che dentro un'applicazione nativa mobile uno può ottenersi per fare operazioni su database quindi lo svantaggio non è tanto efficiente per grandi quantità di dati ovviamente per poche non c'è differenza perché non è efficiente perché tutto il nostro file è un motivo un altro un singolo punto di rottura un singolo punto di rottura si non è che se corrompi il database MySQL non c'è un singolo punto di rottura no? dipende a che livello uno fa i danni ovviamente rallenta perché ralenta sull'automacchina rallenta non perché viene eseguito sull'automacchina perché anche l'altro server viene eseguito sull'automacchina giusto? un server MySQL se lo installo viene eseguito sull'automacchina no? però rallenta perché sono tutte letture scritture a disco su un file che poi va salvato invece un database MySQL è più efficiente nella modalità un database server viene eseguito in maniera più efficiente le letture le scritture ci sono meccanismi più sofisticati che non semplicemente salvo su disco all'interno di un file però per applicazioni semplici e piccole quindi ovviamente non scala bene questo perché questo file poi diventa enorme e quindi leggerlo è un pasticcio è molto complicato è molto poco efficiente eccetera un database server è molto più efficiente al crescere del tipo di dati della quantità di dati però per operazioni piccole semplici come quelle che faremo noi o come quelle che è un sito web in maniera prototipale quantomeno quindi non un qualcosa non il futuro Instagram che ha milioni di utenti ma un qualcosa di relativamente più semplice e meno utilizzato può benissimo andare bene e ha il vantaggio che è SQL quindi le stesse query che uno fa su questo le potrebbe fare su un MySQL su MariaDB su un Oracle eccetera quindi senza cambiare il software se non l'import su applicazioni piccole qual è il vantaggio di utilizzare un SQL che portiamo un GoDB ad esempio sono diversi però per gestire dati semplici vanno bene entrambi perché dovremmo scegliere uno e l'altro in generale o qui? in entrambi casi qui perché non tutti sapete NoSQL e non ci mettiamo a spiegare NoSQL per farvi perché ci servono altri tre crediti no? e allora quindi questo è un motivo tutti avete basi dati quindi costruiamo su SQL che è più facile questo è la cosa più immediata da utilizzare ed è anche comodo all'esame se voi dovete consegnare quando dovrete consegnarci il database perché evitiamo problemi di export non export ho dimenticato questo il dump non è venuto e la qualunque questo è un file fine in generale potrebbe anche andare bene un database NoSQL come MongoDB o Cassandra o simile in generale ma se uno sa NoSQL ovviamente ok quindi tutto questo per dire useremo SQLite SQLite non è installato di default con Node ma bisogna installarlo a parte esistono tanti moduli tante tante librerie per SQLite noi useremo e in fondo a questo set di slide ci sono varie alternative noi useremo questa che è quella più classica che si chiama SQLite e semplicemente si installa npm install SQLite 3 esattamente come abbiamo installato Djs l'altra volta e poi lo si usa come lo si usa lo si usa innanzitutto dicendo a JavaScript che vogliamo aprire un database e aprire il database vuol dire semplicemente dire a JavaScript dov'è il database su disco che nel nostro caso sarà all'interno della nostra della nostra cartella ovviamente questo è la sintassi quella che abbiamo detto che non useremo quindi invece di questo va scritto import import SQLite from aperta virgoletta SQLite 3 in maniera esatta identica a quello che abbiamo fatto per Djs l'altra volta poi le correggo e e poi ci sono le query allora le query in SQLite sono query con questa estensione sono query SQL normali e quindi dovete scriverle voi come stringhe quindi avremo a un certo punto una variabile che contiene select asterisco from tabella o qualunque query ci servirà a fare e poi in base al tipo della query e in base al risultato che vogliamo ottenere dalla query dovremmo chiamare un metodo di SQLite libreria specifico in particolare questo db è l'oggetto che abbiamo ottenuto dall'apertura del database quindi apriamo il database e conserviamo in riferimento all'apertura del database se è andata a buon fine da quell'oggetto possiamo chiamare diversi metodi per fare le query vere e proprie allora il primo metodo che possiamo chiamare si chiama all e come il metodo dice fa una query è pensato per le query di tipo select e fa una query in cui si ritornano tutte le righe del risultato quindi quando c'è select asterisco se voi volete tutte le informazioni dovete usare .all come metodo la callback come vedete è strutturata in maniera simile alle best practice in cui dicevamo prima in cui il primo elemento è quello di errore e il secondo elemento è il risultato della query che si chiama rows plurale perché ci si aspetta ad averne più di una per default perché è un select asterisco ed è un array questo row di nuovo perché ci si aspetta ad averne più di uno gli altri l'altro che useremo spesso che useremo più spesso del terzo è get get serve invece quando si vuole ottenere solo il primo risultato in risposta ad acquiri quindi se noi facciamo una select dove il nome dell'utente o l'id dell'utente uguale a 1 sulla tabella utenti noi ci aspetteremo ovviamente di avere un risultato perché stiamo selezionando una tupla sola l'utente che ha id 1 e se ha un id non può essere duplicato sulla tabella che contiene tutti gli utenti allora in quel caso ci aspettiamo un solo risultato e in quel caso possiamo usare la get che ci dà la prima riga del risultato che nel nostro caso sarà anche l'ultima l'unica e in questo caso stessa sintassi di prima SQL è la query e R sta per error e Rho è la singola riga di risultato nel caso in cui non ci sia errore notiamo questo sia in questo caso sia nell'altro cosa succede se la query mettiamoci in due casi uno è facile cosa succede se la query è sbagliata ha un errore sintattico dentro la query ci viene riempito R o ci viene riempito Rose questa era facile quindi R perché la query è sbagliata e c'è un errore sul database così come se il database per qualche motivo viene spostato cancellato chiuso o c'è un altro programma che lo sta leggendo c'è un errore cosa succede se domanda 2 cosa succede se la query non produce risultati quindi select asterisco select asterisco from utenti dove id dell'utente è uguale a 15 ma nella tabella ce ne sono solo 10 e quindi non c'è un id 15 l'ultimo id è 10 e sono tutti incrementali quindi la query è corretta sintatticamente ma il risultato è vuoto cosa succede in questo caso c'è un errore o ci viene restituito o non ci viene restituito un errore e quindi ci viene restituito RAW o ROS anche nell'altro caso la seconda questa è da tenere a mente perché soprattutto nel caso di query che avvengono l'uno dopo l'altra se la prima query è nulla voi poi cercate di utilizzare RAW .id nella query successiva vi viene lanciato un errore in javascript perché RAW è undefined quindi quando le righe sono vuote RAW diventa undefined e RAW è un array vuoto quindi prima di utilizzarli se non siete certi che o se volete fare un ulteriore controllo che il dato effettivamente ci sia va prima verificato che per esempio RAW sia diverso da undefined e se è diverso da undefined allora si può andare avanti dbitch esegue la callback quindi quello che scriverete qui questo credo che all'interno di questo corso non l'abbiamo mai usato e neanche nessun esame credo sia stato necessario però esiste è unitch quindi esegue la callback per ogni risultato quindi se voi avete bisogno di prendere una riga di risultato e fare delle operazioni identiche per ogni riga che non potete fare in altri modi o senza ciclarci potete anche ciclare a diciamo così a livello di database .witch invece di fare un ciclo all'interno e e e queste sono per la select ovviamente quando abbiamo sì serve per processare i dati del database quindi faccio una query da tutto ottengo ottengo un errore e gestisco l'errore nella callback quindi r mi verrà riempito con l'errore e poi dico se r è pieno allora lancio un'eccezione console.log qualcosa eccetera altrimenti prendo i dati che ci sono in raw e magari li trasformo in un oggetto javascript che mi serve al mio programma principale faccio le operazioni per cui agisco su risultati oppure restituisco raw così com'è quindi sarà un return raw faccio le operazioni che mi servono ok poi comunque abbiamo un esempio quindi dicevo tutti quelli sono per la select ovviamente non ha senso parlare di risultati per di righe di tuple restituite per le altre operazioni come la insert l'update la delete eccetera in quanto vanno a modificare il database ma non vanno a interrogarlo e in quei casi bisogna usare run quindi all quando si vuole prendere tutto get quando si vuole prendere la prima risultato run quando non è una select ma c'è un insert un update un'operazione che va a modificare il database quindi per quegli statement che non ritornano delle tuple che non ritornano delle righe strutturato come l'altro SQL è la query la funzione è la callback che in questo caso non ha il risultato perché non c'è un risultato che viene fuori dalla query perché è una query di modifica quindi c'è solo un parametro che è error param credo ci sia e dopo param sono in tutte e tre le query eventuali parametri da passare alla query quindi questi sono un array di parametri che vengono passati alla query prima che la query venga eseguita è nella slide dopo notiamo due cose notiamo una cosa e vi dico un'altra la cosa che vi dico è che all'interno di questa callback ci sono due possibili variabili che ci vengono date da SQLite quindi che vengono dichiarate e riempite da SQLite che sono this.changes and this.lastid questi due parametri ci dicono changes ci dice quante righe sono state modificate dalla nostra operazione quindi se faccio un insert di un elemento changes varrà 1 quindi quante righe se faccio una delete di 8 elementi changes varrà 8 quindi quante righe vengono modificate questo può essere utile per controllare che l'operazione sia andata a buon fine se faccio un inserimento di un elemento e change se è 0 vuol dire che l'inserimento non è andato a buon fine per qualunque motivo lastid invece è il numero di righe inserite che vale solo per l'insert quindi lastid è è il numero dell'id della righe inserita non il numero di righe inserite e vale solo per l'insert come dice il nome giustamente qual è l'ultimo id che viene assegnato all'operazione quando è stata eseguita quindi se io ho id 1 2 3 4 ed è sequenziale e incrementale vado ad aggiungere un altro elemento questo elemento avrà id 5 e quindi questo lastid avrà id 5 ritornerà 5 e poi di nuovo noi con questa operazione possiamo farcene qualcosa oppure no però se ci servisse possiamo averle in questa funzione ora notiamo volevo farvi notare una cosa perché ha un'implicazione pratica che cosa sono queste che cosa sono queste prenditelo arrow function e vedete che in queste slide usiamo arrow function per tutto anche per la wall giusto? sì? questa che cos'è? quindi non è un arrow function giusto? essendo una funzione anonima non è un arrow function c'è un perché non è fatto caso avete un'idea di quale potrebbe essere il perché? perché non abbiamo r no non necessariamente no qui qui potremmo usare le arrow function o una funzione anonima indifferentemente e nulla cambierebbe in nessun caso qui in queste get all and each è indifferente usare un arrow function una funzione anonima una funzione con nome un qualunque tipo di funzione non c'è una singola differenza in questo caso qui se usate un arrow function alcune cose non funzionano altre sì ed ecco perché non c'è l'arrow function e quali sono queste cose che non funzionano quali sono le cose che questa ha diverso dall'altra a parte non ritornare un valore a questi this changes and this lastity quindi questi due se avete bisogno di questi due o di uno di questi due e qui usate un arrow function quei valori sono undefined questo perché l'arrow function ridefinisce il proprio this quindi questo this changes questo this.last.id non viene più preso da SQLite3 come in questo caso ma viene ridefinito e quindi si perde il collegamento con chi ha creato questo this changes e questo this last.id e quindi in questo caso non c'è un arrow function ma c'è una function normale perché le function normali invece non fanno questa operazione se voi non avete bisogno né di changes né di last.id siamo di nuovo nel caso in cui non cambia usare un arrow function o una function normale ma se avete bisogno di fare this.qualcosa in questo caso questi due valori sarebbero undefined con un arrow function e quindi ci serve una function normale parametri i parametri sono parametri da inserire all'interno della query in con questa libreria i parametri all'interno della query si mettono col punto di domanda quindi select asterisco from corsi dove corsi è uguale punto di domanda questo punto di domanda viene riempito in ordine con quello che c'è nell'array dei parametri quindi se ho tre punti di domanda per esempio in una query dovrò avere tre parametri in questo array e l'ordine in cui i punti di domanda verranno riempiti sarà l'ordine in cui gli elementi compaiono nell'array nel caso non vi sia mai stato detto prima non si concatena col più o col template string nelle query SQL ma i parametri si passano attraverso il campo parametri quindi non è un select asterisco from course where code uguale chiuse virgolette più code in questo caso ma si usano i parametri questo perché i parametri sono sanificati e controllati in un certo senso prima di essere applicati invece quello che è un catenazione di stringhe potreste aprirvi a per esempio SQL injection che non è un qualcosa che volete che la vostra applicazione sopporti quindi l'inserimento di operazioni non volute o malevole che possono distruggere o modificare in maniera non attesa il database con i parametri eventuali variabili contenuti vengono sanificati in modo da evitare con la concatenazione di stringhe si concatena è definita lì non c'è nessun controllo quindi sempre passare dai parametri per passare delle variabili all'interno di una stringa SQL qui c'è un esempio ma facciamolo noi su su quel database che abbiamo così e poi torniamo qua quindi fatemi creare allora innanzitutto fatemi vediamo cosa c'è in questo question.sequelite io vi dicevo ieri di che potete installare una libreria un'estensione che si chiama SQLite che è questa qui che io ho già installato che si può installare e vi permette di vedere il database direttamente dentro Visa Studio Code e vi permette anche di manipolarlo e in alternativa c'è un software che si chiama db browser per SQLite che fa la stessa cosa ma per esempio qui è scarsamente leggibile perché non ha opzioni di zoom e quant'altro quindi usiamo l'estensione di SQLite ma anche questo vi permette di esplorare i dati usiamo l'estensione di Visa Studio Code anche questo vi permette di fare query di esplorare i dati e quant'altro e i link a questi due sono sia sul gruppo Telegram che sul sito del corso nella sezione risorse se vi servissero sono equivalenti nel nostro caso e quindi una volta usata questa estensione no per esempio possiamo attivarla e vedere open database e vedere qui appare un altro tab che ci mostra il database e vedere la struttura delle tabelle in cui vediamo che questo database ha tre tabelle domande risposte e utenti e in risposte c'è all'incirca la stessa cosa che abbiamo messo nell'oggetto Java scritto la settimana scorsa più un ID il testo della risposta l'ID dell'autore della risposta che è una chiave esterna rispetto alla tabella user la data lo score e l'ID della domanda a cui questa risposta appartiene domande e strutturate in maniera simile ha un ID che è un intero ha un testo che è il testo della domanda ha un ID dell'autore che è sempre una chiave esterna rispetto alla tabella utenti ha una data e basta e utenti è molto corto al momento ha anche lui un ID che sono i riferimenti alle altre due tabelle ha un nome e ha una mail e la mail la consideriamo univoca per l'utente quindi non ci possono essere utenti con due mail uguali a modi a modi login e noi possiamo anche vedere il contenuto di queste tabelle cliccando sul play quindi per esempio la tabella risposte a le stesse risposte che abbiamo inserito l'altra volta nell'esercizio assegnate a tre autori diversi con date score e l'idea della domanda e poi c'è anche una seconda domanda che ha una risposta e le domande sono solo due una è quella che abbiamo messo l'altra volta e una è un in più nel caso ci servisse e gli utenti sono gli stessi quattro utenti che avevamo nello scorso esercizio in questo caso con delle mail specificate in più che l'altra volta non avevamo specificato perché non avevamo il campo mail quindi incluso Albert Einstein che qualcuno l'altra volta ha suggerito ok quindi questo è il nostro database questo possiamo lasciarlo qui creiamo un file e no non creiamo un file creiamo un progetto quindi innanzitutto npm init usiamo il default al momento non mi interessa e poi così abbiamo il package json e poi installiamo cosa ci serve per fare un esercizio sui database SQLite3 quindi npm install o npm i che di nuovo è l'abbreviazione SQLite3 lui come l'altra volta ci crea il file package lock e dentro node modules il sorgente di quello che è stato scaricato e installato a questo punto facciamo un file che chiamiamo dbtest .mjs e importiamo SQLite from SQLite3 ok fin qui niente di strano giusto dunque proviamo a fare una query semplice tipo prendiamo tutti tutte le risposte non importa di che domanda tutte le risposte così come sono poi abbiamo un esercizio per la prossima ora ma per ora facciamo una query semplice quindi un select asterisco from answer e qualunque cosa venga cosa dobbiamo fare quindi qui innanzitutto sì constdb perché ci serve per per aprire il database quindi const db uguale SQLite punto database e scusate questo è un oggetto new SQLite database perché ha la D maiuscola quindi è un costruttore e SQLite database vuole il nome del file da aprire col percorso in questo caso è nella stessa cartella quindi non ci serve un percorso questo è un punto SQLite e un eventuale callback per gestire l'errore di apertura il file non c'è il file non si chiama come avete scritto lì il file è un altro percorso l'errore di apertura qualunque sia il problema quindi una callback che ha solo R e quindi qui aperte graffe possiamo scrivere if R in questo momento console.log anzi se c'è un errore lanciamolo come fosse un'eccezione throw R e poi vedremo l'eccezione auspicabilmente non c'è un errore ok la seconda cosa da fare quindi abbiamo aperto il database cosa dobbiamo fare quindi scrivere la query e si va bene come qui allora facciamo let SQL uguale scriviamo la query come si prendono tutti i dati da una tabella select asterisco from e la tabella si chiama answer singolare sì e dato che vogliamo tutti i dati dobbiamo usare db.all db.all ha la stringa la query ha i parametri che in questo caso non ci sono quindi è un array vuoto e la callback che ha come primo argomento una variabile che contiene l'errore che potete chiamare come volete l'importante che vi ricordiate che la prima variabile contiene l'errore e secondo quello che contiene invece il risultato su più righe perché è una all anche qui se c'è un errore vediamo cosa faceva qua faceva throw error ok allora lanciamolo di nuovo altrimenti se non c'è un errore vuol dire che c'è il risultato della query e possiamo per esempio fare come qua for let row of rows console.log row quindi stampiamo la riga così com'è quindi cerco di seguire quello che abbiamo nella slide anche se questo è un database elevamente diverso però almeno siamo coerenti ok proviamo a eseguirlo ecco senza parametri in realtà si può anche non inserire in questo caso è un parametro facoltativo se questo è giusto dunque se lo eseguiamo cosa ci aspettiamo che capiti cosa ci aspettiamo che capiti cos'è che ci aspettiamo che capiti quindi che quello che capita che stampi le righe della tabella che sono tutte qua quindi i di 1 i di 2 i di 3 i di 4 e basta perché la tabella va a solo 4 e possiamo andare a controllare la tabella va a solo 4 righe quindi le stampa tutte 4 ok proviamo a fare questa modifica ci siete fin qui? proviamo a fare questa modifica proviamo a creare un una variabile risultati come un array e invece di fare console.log.row facciamo results.push di row quindi per ogni riga faccio il push dentro results e poi qui possiamo fare for let result r of results console.log r quindi la stessa identica logica di prima c'è un ciclo in più però la stessa logica di prima quello che cambia è che invece di stampare su schermo la riga la ritorniamo la la inseriamo in un altro oggetto e poi in questo caso stampiamo l'altro oggetto ma immaginiamo che vogliamo fare altre operazioni diverse estrarre il primo no? o per stampare solo il primo per esempio non stamparli tutti ok? quindi molto simile a prima come codice cosa succede se eseguiamo questo? opzione 1 otteniamo esattamente lo stesso risultato di prima opzione 2 qualcosa di diverso chi dice opzione 1 quindi lo stesso identico risultato di prima è ovviamente una domanda tra bocchetto chi dice opzione 2 ok poi c'è sempre una parte di gnavi ma ok vediamo quindi puliamo questo così partiamo da pulito e il risultato è niente se vogliamo essere sicuri che stampi possiamo mettere un console log qui non so una serie di punti di asterischi così giusto per per vedere che arrivi a quel punto quindi a quel punto ci arriva perché non stampa niente? perché la query è sincrona e quindi dato quella query è sincrona come funziona? funziona che arriva a questo punto o meglio cosa fa il programma? il programma partiamo dall'inizio apre il database va bene poi crea questa stringa facile crea results vuoto facile chiama dball e mentre la callback che è asincrona dball viene eseguita viene chiamata la riga 15 viene chiamata la riga 16 viene chiamata la riga 17 e dato che queste operazioni sono veloci queste non arrivano in tempo prima che il results sia interamente riempito quindi cosa succede dopo riga 17? temporalmente dopo riga 17 viene eseguito riga 11 e riga 12 ma queste vengono eseguite dopo perché è asincrono nel nostro caso non vengono neanche eseguite perché il programma viene interrotto dopodiché 17 ma se noi per esempio avessimo un set time out che ci fa aspettare due secondi prima di fare quel ciclo magari magari quei due secondi sarebbero sufficienti per avere results pieno o comunque aspettare un po' di tempo quindi dato che la query è asincrona per quello che ne sappiamo non possiamo fare questa operazione ma qualunque operazione sul database che manipoli i dati del database va fatto all'interno della callback e cosa succede se dentro questa callback ci fosse per esempio un'altra query perché se voglio fare un'altra query devo farla dentro la callback giusto? abbiamo appena detto così cosa succede se voglio fare select asterisco e poi prendere il nome dell'utente che ha avuto più risposte quindi devo fare un'altra query dentro la callback quindi ho una callback con il suo corpo e poi avrò un'altra db. qualcosa con la sua callback e quindi avrò una concatenazione di callback che mi sposta in un certo senso se indentiamo sempre il codice più a destra tutto dentro questa iniziale db.all perché tutto è collegato e deve succedere in maniera sequenziale giusto? siete convinti? che per quanto ne sappiamo è così? sì ok e questo è quello che praticamente vi dice le slide che le query sono eseguite in maniera sincrona e qui c'è il disegnino che abbiamo detto a voce e qui c'è un altro esempio con dei numeri che vi fa vedere che a volte certe operazioni sul database sono anche un po' più lente di altre per cui i numeri non sono sempre stampati in maniera corretta per esempio dopo il 392 c'è il 396 tre volte questo perché console.log è un po' più veloce dell'operazione del doppio del doppio è un po' più veloce di questa operazione perché questa abbiamo appena detto dove dovrebbe essere non dovrebbe essere qui ma dovrebbe essere dentro l'altra quindi in qui da qualche parte diciamo e e tra l'altro in questo caso è complicato perché questo è un ciclo da un accento in cui facciamo un inserimento e una stampa e poi però facciamo anche l'inserimento di nuovo quindi quello che dovremmo fare è mettere il dball dentro il dbrun ma poi anche fare copia e incolla del dbrun dentro il dball e avanti così quindi avremo tante volte il dball e il dbrun perché sennò non sono davvero uno dentro l'altra perché il ciclo che sta sopra è sincrono quindi le chiamerebbe in maniera dipendente se noi vogliamo davvero concatenarli dobbiamo concatenarli cento volte a mano questo è un caso ovviamente estremo che si risolve con funzionalità del linguaggio come le promise che vediamo dopo la pausa di 20 minuti